Il nuovo libro di Meghan Markle The Bench è stato ispirato dalla relazione del duca del Sussex con suo figlio Archie e l'immagine di un soldato dai capelli rossi è ovviamente una caricatura del principe Harry. Secondo un esperto reale il libro per bambini di Meghan Markle presenta un sosia del principe Harry che indossa l'uniforme militare e culla suo figlio. L'esperta reale Angela Levin ha sottolineato che il nuovo lavoro della duchessa del Sussex The Bench include un soldato dai capelli rossi che indossa un uniforme dell'esercito degli Stati Uniti. L'uomo ha una strana somiglianza con il principe Harry che ha prestato servizio nell'esercito britannico e condivide un figlio e una figlia con la signora Markle. Il nuovo libro della duchessa del Sussex cattura il rapporto speciale tra padre e figlio. Visto attraverso gli occhi di una madre, ha detto la Levin a Sky News. Il libro è ispirato alla relazione tra il principe Harry e il suo primogenito Archie. Nella pagina che mostra il sosia del principe Harry che abbraccia suo figlio, si può vedere una donna che guarda la riunione in lacrime. La didascalia che accompagna l'immagine dice, guardando il mio amore e il nostro bel ragazzo. E qui nella finestra avrò lacrime di grande gioia. MS Levin, che ha scritto Harry, biografia di un principe, ha detto a Sky News che il soldato dai capelli rossi in la panchina è ovviamente una caricatura del principe Harry, secondo The Sun. Il libro della signora Markle ha anche un toccante riferimento alla sua nuova figlia Lilibet. L'illustrazione finale di The Bench mostra un uomo dai capelli rossi che aiuta un ragazzo a dare da mangiare ai polli mentre una donna sta in piedi in un giardino cullando un bambino o forse un cenno a Lili. La scena sembra essere fortemente influenzata dalla vita di Harry. 36 e 39 anni, Meghan a Montecito, nel sud della California. Oltre ai polli apparsi durante la trasmissione dell'intervista bomba della coppia con Oprah Winfrey a marzo nell'illustrazione compaiono anche due cani. Il duca e la duchessa hanno anche due cani. Un labrador nero di nome Pula e un beagle di nome Guy. Grazie a tutti.